Il 15 e il 16 novembre l'urna con le reliquie di San Giovanni Bosco verrà portata a Messina, così come previsto dal tour di un pellegrinaggio mondiale iniziato nel 2009 in occasione del 150esimo anniversario della nascita della famiglia salesiana fondata dal Santo Torinese. Ed in ricorrenza di questa data è stato avviato un viaggio dell'urna di Don Bosco nei 130 paesi in cui sono presenti i salesiani. Proprio come nel XIX secolo il prete si muoveva per andare incontro ai giovani, oggi torna tra la gente in maniera simbolica per lanciare un messaggio alle nuove generazioni. Questo pellegrinaggio iniziato nel 2009 si concluderà nel 2014 a ridosso dell'anno centenario, bicentenario della sua nascita che sarà nel 2015. E dunque Don Bosco è pellegrino tra noi e ci viene a ricordare i valori fondamentali per cui ha speso e per cui ha dedicato la sua vita, una vita peraltro molto preziosa, con un impatto molto forte nella popolazione del tempo, 1800, ma che comunque è un impatto che continua nella storia di oggi e continua sotto tutti i cieli, in tutti i continenti. In Sicilia l'urna rimarrà in peregrinazione dall'1 al 20 novembre, due le giornate dedicate alla città dello stretto che vanta una lunga tradizione educativa salesiana e ad accogliere il santo un intenso programma di iniziative organizzate da una commissione coordinata da Don Arnaldo Riggi, in sinergia anche con l'Istituto Don Bosco delle Figlie di Maria Ausiliatrice. L'urna di Don Bosco giungerà a Messina alle ore 15 del 15 novembre, proprio nel giorno in cui ricordiamo la beata Maddalena Morano, e giungerà proprio nella nostra opera dell'oratorio laesiano San Domenico Savio di Via Lenzi, dove ci sarà un incontro per tutto il pomeriggio con la catechesi parrocchiale e con le varie comunità in pellegrinaggio. Alle ore 20 il momento clou sarà quello della celebrazione eucaristica presieduta dall'Arcivescovo La Piana in cattedrale per tutta la famiglia salesiana e per la comunità ecclesiale. Dopo una notte di veglia nella nostra casa salesiana di Giosta, la parrocchia San Matteo, l'indomani mattina per tutte le scuole della città ci sarà un momento di pellegrinaggio di catechesi all'Istituto Don Bosco delle figlie di Maria Siliatrice di Via Brescia.